Sono in corso valutazioni sempre più approfondite, sempre più frequenti tra i dirigenti della tecnica rossonera che stanno valutando attentamente il calciomercato, stanno valutando attentamente i vari profili che in qualche modo possono subentrare, possono prendere il posto dell'infortunato Simon Kier per la difesa, per la retroguardia rossonera. Il Milan sembra che stia vagliando anche questi due nomi che avete visto nella foto, il giocatore Sven Botman classe 2000 olandese in forza al Lille e Malang Sar del 99, 22enne in forza al Chelsea. Ora con questo video andiamo a analizzare i giocatori, le loro caratteristiche, le loro statistiche e poi diciamo la nostra, quindi rimanete in qualche modo, passatemi il termine, comodi, ascoltate tutto il video e poi alla fine fatemi sapere cosa ne pensate di questi due calciatori. Partiamo dal primo, Sven Botman, nato il 12 gennaio del 2000, 21enne, nazionale olandese, fisicamente ricorda un po' Stam perché è alto 1,95, quindi un difensore molto forte fisicamente, molto roccioso, pesa 84 kg. Un difensore centrale, un mancino, ecco qua il primo indizio, un mancino il Milan, potrebbe avere un difensore centrale mancino che possa in qualche modo alternarsi anche con Alessio Romagnoli e perché no prendere un domani, vista anche la situazione contro l'attuale, proprio il posto dell'ex capitano. Valutazione di mercato, circa 30 milioni di euro, è un giocatore molto giovane ma molto talentuoso, su cui ci sono diverse big, ma il Milan cerca di fare in qualche modo leva anche sull'ottimo rapporto, che c'è tra il Milan e il Lille, grazie proprio al ruolo del fondo Iliott. Il giocatore Sven Botman ha un contratto fino al 30 giugno 2025, è fortissimo come giocatore nel gioco aereo, ha un ottimo senso della posizione, è molto pulito negli interventi, bravo negli anticipi e gioca bene con entrambi i piedi. Queste sono le caratteristiche, la relazione tecnica che un osservatore ci ha rilasciato su questo giocatore Sven Botman, che nonostante la giovanissima età conta già diverse presenze nel Lille. Finora in questa stagione con Lille ha collezionato complessamente 15 presenze, ha giocato 1350 minuti e ha realizzato una rete, mentre nella scorsa stagione con Lille, ricordiamo l'età 2000, e anche qui sempre la solita riflessione, negli altri campionati giovani vengono fatti giocare. Nella scorsa stagione con Lille ha totalizzato complessamente 47 presenze, ha giocato 4071 minuti e ha servito un assist. Finora ha vestito la maglia del Lille, dell'Evernan, dell'Ajax Under 21, Under 19 e Under 17, dove ha collezionato complessamente nell'Ajax 175 presenze, ha realizzato 18 reti e ha fornito 7 assist. E il calciatore conta 9 presenze in una rete con la maglia dell'Under 21. Quindi nello storico, nella carriera di questo giocatore roccioso, tecnico, molto forte nel colpi test, ci sono anche a Novera diversi gol e diversi assi. Un giocatore molto pericoloso anche sulle palle inattive. Questo sembra essere il profilo, il profilo preferito del Milan, di Paolo Maldini, che vorrebbe un investimento importante e duraturo nella prossima stagione. Questo potrebbe essere il centrale, che potrebbe in qualche modo costituire il Milan, centrale difensivo, che potrà andare a far parte con Tomori del Milan del futuro. L'altro giocatore di cui parliamo è Malang Sar, un profilo diverso, potrebbe essere più un'opportunità in prestito rispetto a Botman, dove potrebbe essere fatto un investimento. Un giocatore di 99, 22 anni, nazionale francese, alto 1,83, pesa 74 kg, difensore centrale, anche lui mancino. Questo ci fa riflettere sulla strategia di calcio e mercato data al Milan. Una valutazione molto più eccessibile, si parla di circa 10 milioni di euro. Anche lui, il contratto di scadenza al 30 giugno 2025. Andiamo ad analizzare le caratteristiche. È bravo in marcatura, nel posizionamento, è molto veloce, è abile nel gioco aereo e sa impostare il gioco. Quindi ha delle caratteristiche leggermente diverse. Mi dicono che è un giocatore davvero molto veloce e per i difensori abbiamo visto con Tomori quanto sia una caratteristica importante, determinante questa cosa. È un'opportunità di calcio e mercato perché finora, in questa stagione, ha collezionato complessamente solo 4 presenze col Chelsea. È giocato 360 minuti. Qui non facciamo commenti approssimativi, ma non gioca, lo prendiamo noi, è un esubero. Perché ricordo che anche Tomori, lo stesso Ficaiotomori, al Chelsea non trovava spazio. E quindi è stata un'opportunità ben studiata dai dirigenti dell'area tecnica rosso-nera. Nella scorsa ragione il giocatore ha giocato con la maglia del porto in prestito. Aveva collezionato complessivamente 27 presenze. Ha giocato 2109 minuti realizzando due reti. Ha giocato con la maglia del Nizza, con la maglia del Porto, del Porto B e con il Chelsea. E totale complessivamente ha disputato 150 presenze. Ha segnato 5 reti e ha servito 3 assist. E il giocatore conta anche 6 presenze con la Francia Under 21. Se parliamo di un profilo di maggiore esperienza di due, è sicuramente Sar, che ha disputato, oltre che il campionato di Premier League, anche il campionato francese dove è cresciuto. E il campionato portoghese. Se invece vediamo un investimento nel medio e lungo termine, sicuramente Botman è un profilo migliore. Mi dicono fonti che il Milan stia approcciando con grande serietà con Lille, perché con Lille c'è un ottimo rapporto, prima Leao, poi Magnan e poi potrebbe essere il turno di Botman. Un giocatore su cui Milan potrebbe fare un investimento, un investimento importante. Non so se conoscete i due profili, fatemelo sapere nei commenti del video. Come sempre, se questo video vi è piaciuto vi chiediamo di mettere un like, di condividerlo. Scrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso e Nera.